Graucio terzo, nel caso i primi due non vi fossero bastati. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mammazzo, bentornati nella rubrica Dillandog Colorfest, dove per la terza volta continuiamo a parlare delle avventure, anche in solitaria, della spalla preferita di Dillandog, ovvero Graucio Marx. Dopo il numero 30 e 34, con il numero 38 abbiamo la trilogia, che si può trovare anche nel Graucio Omicon, denominata, rinominata in questi Colorfest, appunto Graucio I, Graucio II e Graucio III. Anche in questo caso, all'interno delle 96 pagine del Colorfest, ci sono tre storie, come sempre, tre storie complete, senza la parola inedite per farvi, tra virgolette, per pararsi il culo, che non sono inedite, ma sono già edite, appunto, sono uscite sul Graucio Omicon, a differenza di altri Colorfest, dove troverete la parola tre storie inedite e complete. Le tre storie sono rispettivamente di Sio, che se non lo conoscete, ve lo dico io, si occupa dalla sceneggiatura al disegno, quindi è tutto di Sio, e dalla colorazione, ovviamente, è il bambino di Baskerville. La seconda storia è Graucio Profondo, soggetto sceneggiatura di Paola Barbato, i disegni sono di Luigi Piccato, la colorazione di Fabio Piccato e Virginia Chiabotti. E il terzo, un Graucio da collezione, soggetto sceneggiatura di Davide La Rosa, disegni di Luca Bertelè e la colorazione di Manuela Nerolini. Non mi vogliano quelli del lettering che non ho nominato, ma li trovate tutti qua, nel trafiletto. Ci tenevo a dire, in maniera quasi didascalica, gli sceneggiatori, i disegnatori, in questo numero, cosa che di solito non faccio, anzi, la faccio quasi mai, la faccio male. Ma perché? Perché forse questo, dei tre numeri su Graucio, è quello che mi ha dato un po' meno, è forse quello meno potente. E delle tre storie all'interno, paradossalmente, quella che funziona di più è quella di Sio. e con mio sommo dispiacere, perché io so che la forza di Sio è nel messaggio che dà e non nel disegno, ovviamente, che è a dir poco elementare. Ma proprio per questo mi scoccia che sia la storia che mi è piaciuta di più quando abbiamo, nelle altre due storie, dei disegni magnifici e non mi hanno trasportato nel mondo di Graucio quanto la prima storia. So che ormai il tratto distintivo di Sio è dato anche dal disegno così scarno, stile Cartoni Morti, che anzi, in realtà, Cartoni Morti è anche migliorato. Però, ecco, a volte mi piacerebbe anche vedere il soggetto e la sceneggiatura partorita dalla mente di Sio con i disegni di qualcun altro, tanto per unire due alti livelli di follia, di classe, di arte. Però so che sono l'unico, so che è un popular opinion, quindi si va avanti così e ci si tiene quello che si ha. Perché comunque una storia disegnata da Sio di 30 pagine mi è sembrata anche più lunga delle altre due, forse proprio a causa di questo disegno così particolare. Sono sicuro che una persona che magari non conosce Sio, che è abituato a quasi... gli si girano gli occhi se vede un Dylan Dog troppo cartunesco, chissà cosa potrebbe aver detto avendo letto questa storia. Probabilmente è svenuto e adesso è in rianimazione. La seconda storia invece è praticamente ambientata nello spazio profondo, da lì il titolo Graucio Profondo, scritta da Paolo Barbato, che comunque lei non sbaglia mai un colpo, più che altro l'idea di base che oltre a Graucio ci fossero altre eterne spalle comiche, cioè spalle comiche, eterni comici, come appunto Charlie Chaplin, Woody Allen, Whoopi Goldberg e quello che dovrebbe essere l'Igor di Frankenstein Junior, che si rimbalzano battute su battute su battute, dove Graucio è forse quello più normale, devo dire che dopo 30 pagine ti viene voglia che tutti vengano eliminati, ti viene voglia fisicamente di andare tu a eliminarli tutti, anche perché sono ovviamente una versione caricaturata dei personaggi, soprattutto di quelli reali, di conseguenza sono molto stereotipate le loro battute, Woody Allen parla sempre di quanto è sfortunato con le donne, lo fa anche il vero Woody Allen, però è proprio sempre su quel argomento, Whoopi Goldberg è sempre sull'argomento che gli uomini sono delle merde, e quindi dopo un po' è molto ripetitivo, nonostante sia bello vedere come si completino Woody Allen e Whoopi Goldberg. Diciamo che la parte migliore della seconda storia è quando Graucio riesce a riesumare una sorta di Frankenstein villain, e insieme affrontano quello che è una parodia del Dormammu di Doctor Strange. Il tutto si conclude come nell'ultima storia del Graucio II, con un sogno non sogno, quindi con un sogno che si trascina qualche rimasuglio nella realtà, e infine l'ultima storia, che è quella che io ho apprezzato di più a livello di disegni, è un Graucio da collezione, che dove per nessun motivo Graucio si licenzia, che vabbè, ok, viene rapito e viene portato in una base alla James Bond, con un cattivo altrettanto alla James Bond, che sta rapendo tutte le spalle. Ecco, è forse il soggetto un po' più deboluccio, perché per quanto capisco che sia una storia umoristica, non è talmente nonsense come quella di Sio da sospendere l'incredulità al punto tale da godersela, ma non è neanche così seria da dover dare per forza chissà quali spiegazioni per cui questo nemico di questo numero fa quello che fa, nel senso non spiegazioni logiche. Però ecco, l'ho sentita un po' deboluccia da questo punto di vista. È chiaro che è tutto un pretesto, anche qui per far collaborare Graucio, con le altre spalle comiche, in generale della cultura antica e popolare, abbiamo il Dottor Watson, abbiamo Virgilio, abbiamo questa che dovrebbe essere la compagna di Wall-E, di Dove è Wall-E e Chucky di Happy Days. Anche qui, francamente, con tutte le spalle comiche, o spalle in generale, che esistono nel mondo, a parte Watson, sono andate a sceglierne davvero di molto strampalate. Virginio è molto interessante come scelta, molto antica, ma ce ne sono comunque tantissime, un po' più moderne che magari avrebbero fatto ridere un po' di più. A parte questo, c'è anche un senso un po' di ripetitività con la seconda storia, perché anche lì ci sono altri comici, però, diciamo che, da quel punto di vista, ho goduto di più nel leggere la terza, soprattutto nel vedere come Graucio si rapporta alle altre spalle comiche in questo numero. Come tutti ignorino Chucky, come sia inutile in questa storia, è la cosa forse più esilarante di tutto il numero. Il finale cita palesemente D-Landog numero 1, L'alba dei morti e viventi, dove, appunto, questa spalla mancata di Xabaras pare voglia diventare la nemesi di Graucio, in quanto spalla su spalla sono... Xabaras è la nemesi di D-Landog e questa spalla qui vuole diventare la nemesi della spalla di D-Landog, però, francamente, spero per Graucio e anche per noi lettori che non sia questa la nemesi di Graucio. Una cosa carina che ho notato, come hanno disegnato questa spalla comica, mi ha ricordato un pochino un Will Ferrell quando cerca di fare il cattivo nei film comici come il Will Ferrell di Austin Powers e in quel caso è un valore aggiunto al personaggio e in quel caso mi piacerebbe rivedere uno scontro tra lui e Graucio. Bene, non ho moltissimo da dire su questo numero, come vi ho detto non mi ha dato chissà quale trasporto, anche perché è un numero comico, quindi deve solo intrattenere, deve solo farci ridere e mi ha fatto ridere. Fatemi sapere voi qual è la storia che preferite tra le tre del Graucio terzo, fatemi sapere qual è il Graucio che preferite tra Graucio primo, secondo e terzo e in generale, se volete scrivermi qui sotto, qual è la storia in assoluto che vi è piaciuto di più di queste nove storie presenti. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie.